Ecco, voglio capire il sicuretto, voglio vedere come una scarpa è fatta bene. Guarda, guarda, vedi una sfilatura, vedi una raschiatura, guarda che roba, noi italiani sappiamo fare scatti. Bravo, bravo con questo ragazzo, anche davvero questa iniziativa. Eh beh, non è mica da poco che lavoriamo insieme, con l'associazione. È anche un progetto costruito con il presidente dell'associazione, quello di Italian Artisan Heroes, qui in Fiera. I livelli eroi nel mondo della calzatura. Sì, del mondo della tradizione manifatturiera della calzatura, quindi proprio come diceva il presidente, molto attenti anche a quello che è la tradizione dietro il prodotto, il saper fare, quello che è difficilmente copiabile come è vero made in Italy. Ciao!